20.000 visitatori da tutto il mondo in tre anni. Questo è il risultato reso pubblico dal museo diffuso dei Cinque Sensi di Sciacca che con i suoi volontari ha garantito l'apertura al pubblico delle stufe vaporose delle grotte del Monte Cronio ottenute in concessione dalla regione siciliana malgrado il patrimonio termale come noto fosse chiuso. Questi risultati hanno indotto la cooperativa di comunità, identità e bellezza ad ampliare il team accoglienza e così dal 21 settembre le grotte saranno aperte al pubblico il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12. Il Monte Cronio, dice Tony Russo, presidente del museo diffuso dei Cinque Sensi, è un esempio di rinascita collettiva e di quanto una comunità coesa possa realizzare insieme. Grazie al nostro impegno e alla fiducia dei visitatori con cui De Russo le grotte sono oggi un simbolo di appartenenza per la Sicilia accogliendo migliaia di persone che continuano a venirci a trovare. Bisogna stilare un piano di intervento a breve, medio e lungo termine per affrontare la crisi idrica in agricoltura e così procedere ognuno per la propria responsabilità. Lo ha detto l'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano, intervenendo stamattina al Consiglio Comunale di Castelvetrano, convocato nel Parco archeologico di Selinunte sulla crisi idrica in agricoltura. Alla seduta aperta erano presenti rappresentanze dei coltivatori, delle istituzioni, dei comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazzara e Partanna, i parlamentari Giuseppe Bica di Fratelli d'Italia, Dario Safina del PD, Stefano Pellegrino di Forza Italia, il commissario straordinario dei consorsi di bonifica a Baldo Gerraputo. Quello che ci chiediamo è se l'agricoltura sia strategico o meno per la regione, ha detto l'agronomo Francesco Marino della Libera Consulta di Agricoltori. Siamo qui a rincorrere i guasti e la politica non mette in condizione i coltivatori di lavorare. Qualcuno deve dirci di che morte deve morire la diga d'Elia, ha detto Valentina Blunda, del Neonato Club degli Agricoltori. Questo consiglio è tardivo rispetto alla questione. Ormai l'annato levicole è compromessa, ha aggiunto Blunda. Bisogna investire su dighe e destellatori di far buon uso dei bandi per i finanziamenti, ha concluso Safina. Un egrigentino di 40 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato e accusato di aver appiccato dolosamente un incendio di un cumulo di sterpagli in via La Loggia, lungo la panoramica della Valle dei Templi. Ad allertare gli agenti sono stati i militari dell'esercito in transito a bordo di un mezzo che si sono accorti di quanto stava succedendo. Nel frattempo sul posto sono giunti anche gli uomini del corpo forestale che hanno provveduto a spegnere tempestivamente le fiamme, evitando che si stendessero oltre misura. L'uomo, come detto, è stato identificato ed arrestato. Dopo la recente rimodulazione del contratto degli 84 dipendenti part-time del comune di Ribera, l'amministrazione Ruvola ha avviato le procedure per la stabilizzazione a tempo indeterminato di altri 36 lavoratori impegnati in attività socialmente utili, un obiettivo reso possibile dall'utilizzo di un contributo della regione siciliana concesso in particolare dall'assessorato alla famiglia e alle politiche sociali al lavoro grazie ad un emendamento approvato con la recente legge finanziaria. Come anticipa il sito ripost.it, gli ASU di Ribera sono lavoratori in servizio nei vari settori comunali da circa 20 anni. Saranno stabilizzati in un contratto a tempo indeterminato da 22 a 24 ore con l'onere finanziario regionale di 19.180 euro annui per ciascun dipendente precario. Il lavoratore era destinatario in passato di un semplice sussidio da parte della regione siciliana che con un aumento di orario dal 2023 da 20 a 36 ore però non prevedeva contributi pensionistici e previdenziali.